Bentornati! Questo gioco ce l'ha suggerito Yotobi. Karim ci ha detto, ragazzi dovete provare Darkest Skies. Esatto. Mi fido, mi fido di Karim perché di monnezza lui ne capisce, se ne intende, ed è uno dei pochi giocatori che hanno giocato Cyberpunk senza bug. Nel mondo. Di lui ci possiamo fidare perché è una persona eccezione. Allora, easy. Problematic? No, perché easy? No, dai, inizia il gioco. Ti voglio fare incazzare. No, no, easy no, per favore, easy no, almeno problematic. Facciamo un new game in hard, normal. Normal, almeno normal. Non ci sono altre opzioni, ragazzi. Noi siamo a 5 cm dallo schermo, c'è anche da dire. E comunque è piccolo. Come abbiamo una certa età. Non leggo, è tutto sul bianco, sul bianco. Criminali. Malattia. Destruction. Non si legge un cazzo. Ah, guarda che bello. Oh, Cristo, che è? Poverino, non ho un problema. Lui è incazzato, ma no, è strano. Oh, just remember Baldo? Hai visto la vita dove ce l'hai di fianco? Complicatissimo. C'ho un tablet di fianco, devo controllare la vita, devo fare così. Che praticamente, cioè, tu c'hai un contapassi al lato. Madonna, madonna. Non puoi saltare un po'. Posso correre, posso correre, Fefe. Posso correre. Però dai, sembra bello. Lui ha dei problemi. Ha anche i capelli. È un gioco che ti riporta subito al 2003. Senti. Scusa, eh. Fammi... Li ho disintegrati, quei due secchi. Sono scomparsi per sempre. Madonna, quanto cazzo inquadrato marcio. Iniziamo malissimo. Puoi equipare... Old... Old quadrato. Palla madonna che sistema di contro... Eh, devi sparar là, bravo. Perché non si vede... Devi sparar là, devi sparar là. Ti faccio vedere. Se io cammino... Togli il mirino, mi devo stare fermo. Mi devo stare fermo, sennò si toglie il mirino. Vabbè, come a tutti. Eh... Devevi ricaricare perché non c'è... Gesù buono. Perfetto. Un ammo. Mamma che... Uno dei peggiori spari... No, no. Que... Que... Prego. Prego, prego. Ah, che carino. Adesso siamo full e quindi... Sì, è verde. Vai, vai, vai. È brutto, eh. È una delle peggiori... Quando c'è il rinculo, rimani su, devi riabbassare la mira. Non ho mai visto sta cosa. Tiè, è diverso. Porca troia. Eh, raga, è il sistema di shooting più legnoso che ho mai visto in vita mia. Qualche volta, mentre esplori, incontrerai oggetti nel mondo che devono essere riparati. Comunque siamo un po' vecchi. Alcuni di questi oggetti hanno bisogno di materiali. Io non ci vedo fino a là. Hanno bisogno di materiali. Stanno a pomare gli occhi. I materiali richiesti sono mostrati come icone sopra l'oggetto rotto. Guardati intorno in quest'area per trovare alcuni materiali. Allora, ci vuole la corda e le cose. Carino. Hold to focus. Madonne minigiochi! Allora, dobbiamo andare ad aprire qualcosa qua dentro. Ma tu quando ti concentri vedi le cose rosse? Beh, sì, quando mi concentro in cucina spesso vedo la cosa rossa da qualche parte. Fonda che tasti brutti. Siamo riusciti. Io l'ho pagato 20 euro, eh. Hai pagato 20 euro? Grazie Tobi. C'è uno strano, non si vede niente. Galleggia sull'aria, galleggia! È un'area in cui se entri galleggi. Ma lui vola. È il Gesù. Io voglio correre, non posso. Oh, che palle. Ma un'animazione, almeno quella del protagonista, non dico degli altri, ma il protagonista può camminare. Ma è una gallina, il busto è una gallina. Non... Non sarei in grado di camminare in questo modo. No, ma nemmeno io. Chi è? Una gallina potrebbe farlo, però. Vabbè, non ti puoi alzare e correre, tipo. Ehi! Ho sentito, ehi, mi sa che è lui che si parla da solo. Tobi ha detto che dura un'ora e mezza sto gioco qua. Un'ora e mezza. Un'ora e mezza ha detto, è giocato come lo gioco io. Come lo giocavamo noi probabilmente è infinito. Però... Perché io già sto percependo un infinito. Allora io cercavo qualcosa da mettere in flop quest'anno al primo posto, e questo pericolosamente... Non c'è il posto. Non c'è il posto. Non c'è il posto. E' tottenuto, eh? Dai, venga, venga! C'ha un po' di problemi anche lei articolari. Ma che cazzo di versi fa? Eh, la madonna. Ma è una delle peggiori cose che io abbia mai visto nei videogiochi dell'ultimo periodo. E anche degli ultimi dieci anni. E' uscito su... Su PlayStation l'ho comprato. E non lo potete giocare sulla quattro, cioè questo è un gioco next gen, ragazzi. Ho finito i colpi. Ma veramente è così? Praticamente tu prendi i colpi che ti servono per uccidere il mosto che troverai dopo. E se quella non l'avessimo... Cioè se avessimo mancato un colpo? Eh. Bella domanda. Io l'avrei fatto. Io, Tobi, sei stato veramente sbarazzino con questo tuo consiglio. Psst. Psst. Che fa, psst? Psst. Sono io. Ma la madonna. Ma la madonna. Ma la madonna. Ma l'amore di Dio! Ma oh! È lei! Dovemmo farci attaccare prima però. Sei morto? Voglio provare io? No! La madonna! Ma che stiamo scherzando? No! 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 Non lo finiremo mai più! Gioca, vai! Non lo finiremo mai più, te lo dico proprio! Non lo finiremo! Non lo finiremo! Non ti vede! Io volevo metterla qui sopra. Ok, ci riesco. Allora, in Italia non c'è nessuna testata che ne abbia fatto una recensione. Strano vero. Guarda dove l'ho messa. Ma l'hai buggata per sempre cioè. Non riesce più ad attaccare. Non volevo spregare i miei tre colpi, non per altro. Ma tu lo stavi facendo. E mi ha detto che l'avevo spregati. Ho fatto il checkpoint credo. Probabilmente sì. Però, vedi? Lo sto facendo peaceful. Jack sta provando a riparare il hat- Il hat- Ma vedi questa è nostra casa. Per accedere al bunker. Però, eh, colleziona parti del cazzo in volo. No, 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 no. Raccogli parti del cazzo in volo. Fanno dei rumori, sembrano degli animali che scopano. Sono tremendi. Madonna! Mi sono caccato sotto perché non l'avevo visto proprio. Ma la loro capacità visiva è bassissima. Nel senso che se sei basso non ti vedono. Quello sto dicendo. Posso camminare anche più velocemente. Ah, merda. Corri! 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 Come si corre? Come si corre? Oddio! 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 Non so che fare! È tutto confuso! Corri! Corri! Ma scusa, ma chi m'ha sgamato è perché? Ma io che cazzo ne so, ma è un gioco complicatissimo. Io Tobi l'avevo giocato in un'ora e mezza. Ma noi un'ora e mezza mi sa che non usciamo neanche da qua. Eh! 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 No, no, no. Non ti vede il buio, non ti vede il buio. Più a quella cosa verde che ti serve per uscire da qua. Eh, focusati. Ecco. Non cazzo di... Non vedo un cazzo! Ah, pensavo di essere io quello cieco invece. Vai. Bravo, muo lo shocker, non le pietre. Sistema di un macchinoso fuori dal... Ma Succi, vai subito. Vai, sbrigati che c'è quella dietro, eh. No, ma non arriverà mai. Eh, ma corrono come sagchette queste. Eh! Stanno sgamato. No, no, se io spengo queste... Stanno sgamato. La puttana! La puttana! Non corre di là, non sai che cosa è, più stasso scendere le scale. Di meno, di meno, di meno, torna indietro. No, da meno, da meno, dai scendi le scale. Dici che si inceppa per le scale. Sì, sì, le scale, le scale ti possono aiutare. Ah! È bravissima! È bravissima! Sali le scale! Sali! Ma non ti può giocare a questo! Prova a fare un'altra cosa. Cioè, questa roba sullo store PlayStation non ci dovrebbe andare. Non dovrebbe. Come si accendeva l'acqua? Eh, freccia giù. È anche anti-intuitivo con tutti questi comandi a cazzo. Sei ricordato dopo un po' che ti odia. Oh merda. Mi sa che si è fermato. Dai, troverò qualcosa, troverò qualcosa. Giù! 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 No! La luce! La luce! Eh, ce li hai attaccati al culo quelli là. Vedo un cazzo! Aspetta, come si concentrava? Ma che cazzo succede? Non lo so, tra te. Che cosa cazzo è successo? Allora, io non ho mai fatto un videogioco. Ma se il mio primo videogioco fosse come questo, non sarei orgoglioso. Non ci vedo niente. Non so dove sono. Non so dove stanno. Dove sono in base? Come è fatto a arrivare qua? Non capisco cosa sta succedendo. Io muoio. Ma non lo so. Si stanno amando. Si amano. Ma dove si competono l'uno e l'altro? È una... Non vedo niente, non vedo niente. Non so dove sta la... Comunque, in Italia nessuno gli ha fatto una recensione. Strano. Mi piacerebbe essere il primo. Stranissimo. Oddio! Oddio! No, quello c'è la mazza, le distruggi quelle cose! Me! Ma vaffan... Mi sono cagato sotto. No! 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 È cattiveria! È cattiveria! Ehm... Eh vabbè... Madonna! Vai, vai! No, 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 no... Vai! No, 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 no! Non so che devo fare, non so che devo fare, non so che devo fare. Buttati sul letto, buttati sul letto, sei malato. Che faccio? Si vede un cazzo, non si vede. Ma che cazzo è quella cosa che ogni tanto appare? Non capisco Fuori, fuori No, sei fatto Una volta che parte la combo, sei fatto Ma buco, raga Ho un bezzo che ci giocheremo più, però No, lo finiamo, questo si finisce Butti 20 euro così Eh, dopo L'ho buttato per molto meno Dopo torniamo e andiamo avanti Alla prossima No, chi torna? Noi torniamo pomeriggio